Sul bacino del Mediterraneo centrale sulla nostra penisola, il quadro sinottico è ancora dominato da un campo di alta pressione di origine africana, che garantirà tempo stabile e soleggiato anche nel fine settimana. In Toscana, venerdì 30 agosto, cielo sereno poco nuvoloso, venti debole di Brezza, fino a moderati di maestrale sul litorale meridionale dal pomeriggio, mari poco mossi, temporaneamente mossi a sud di Piombino dal pomeriggio, temperature stazionarie un lieve aumento, con punte di 37-38 gradi sulle zone interne. Anche sul territorio provinciale tempo stabile e soleggiato, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 20, massima 35 gradi, a Castelnuovo Garfagnane, zone montane, minima 17, massima 32, a Viareggio e sul litorale, minima 21, massima 31 gradi, sabato 31 agosto velato e temperature stazionarie.